E' un'altra scelta. Devo chiamare Finn per entrare nell'Underground. Ehi, Miles. Tutto bene? Ehm, sì. Perché me lo chiedi? Oh, ma ho visto i filmati sul raduno di tua madre. Sì, stiamo bene. Senti, avresti tempo per un caffè? Posso trovarlo. C'è un locale sulla Edison, vicino alla Fisk Tower. Non fanno decorazioni sulla schiuma, ma almeno la gente non scatta foto ai cappuccini. Quindi... Sì, ok. Ci vediamo lì. Salve a tutti, friends. Dal vostro Super Corris. Ragazzi, perché è tornato Spider-Man e Miles Morales solo ora? Perché praticamente avevo cancellato i salvataggi. Sono molto sincero, erroneamente avevo cancellato i salvataggi. E ho detto, appena c'ho tempo, mi inizio a rifare le missioni la sera, casomai, e recupero. Però non ho mai trovato questo tempo, giustamente. Altra sera lo riaccendo per far giocare mia nipote che voleva provare Spider-Man con la PlayStation. Cos'ho notato, ragazzi? Che miracolosamente erano tornati i salvataggi. Voi ora mi direte, perché Corra? Com'è stato possibile? Come ha detto Giovannino, è stato praticamente il cloud. Noi avendo il PlayStation Plus abbiamo pure il cloud, abbiamo. Quindi i salvataggi del cloud mi hanno permesso di recuperare i salvataggi del gioco. Figata assoluta. E adesso possiamo ripartire con la nostra storia di Spider-Man. Abbiamo fatto il 25% del gioco e andiamo a finire il resto. Come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo e al primo canale SuperChoris84. Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. Sul canale Telegram delle offerte SuperChoris, offerte Amazon, dove tutti i giorni mettono migliore offerte di Amazon in ambito tecnologie videogiochi. C'è Fruit Rob, c'è il canale Viola, SuperChorisGamer anche là. E c'è il mio canale ufficiale SuperChoris84 per le news e i primi sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere ogni volta. Via, eccoci qui. Ma è anche la prima volta che abbiamo questo nuovo costume di Spider-Man, proprio come nella copertina. Via, siamo arrivati. Ma che facciamo? Eccoci qui. Fin, pastrollon sono. Mi serviva una pausa. Da cosa? Oh, da... tutto. Sai... sono stato alla bottega dei tuoi. Nostro Raffaellino Leao. Era tutto sottosopra, era ridotto come un campo di battaglia. Sono entrato e ho dato un'occhiata. Ho scoperto di Rick. Bassi fossi. Mi dispiace. Cos'altro hai scoperto? Voglio aiutarti. Ma devi dirmi tutto. Tadoss mi devi dire. Porcella. Mi spiace che tua madre sia rimasta ferita. Se soltanto il nuovo Spider-Man non si fosse intromesso. Non cercare di farmi desistere. So quello che faccio. Ah. Ok. Bene. Allora, questo è il mio segreto. Per questo ero impegnata. La tua scusa invece? Alleno con il Milan. Beh, la scuola, i turni al Fist, tutte cose che facevi anche prima. Qual è il vero motivo? Diglielo Raffaellino. Mi sono preso molte più responsabilità di quante ne possa gestire. Ai ai ai. Io ho allontanato gli amici. Ma sono qui per rimediare. Magari potrei unirmi al tuo club. Gruppo. Squadra. Squadra genio. Non so. Sai, Rick era... Era il migliore. Capisco perché lo fai. Se vuoi che ti aiuti, io ci sono. Mmm. Sennò... Spider-Man pure. Tranquilla. Monterrò il segreto. Sei un buon amico, Miles. Ok. Andiamo. Ai ai ai. Dove? Dagli altri sozzoloni. Sai che non amo le altezze. Andrà bene. Ci sono qua io. Acquenta. Devi dimostrarti degno dell'underground. Ti farò vedere come, arrivati alla Fisk Tower. Vi siete stabiliti nella base di Kimpin. Quando è finita in prigione, i federali hanno sequestrato le sue proprietà. Ma senza venderle. Quindi le abbiamo occupate. Cosa ti ha portato a tutto questo? L'underground. Tinkerer. Tinkerer è il mio nome d'arte. Dostruisco di tutto. Maschere. Armi. Materie programmate. Sali. Esatto. L'underground è entrata nel negozio di mio nonno e ha visto cosa si fa. Ordi il retter e si ingraga. Che roba. So che puntate a Krieger, ma qual è l'obiettivo? Oltre alle armi, ovviamente. La notorietà. L'underground vuole farsi conoscere per conquistare potere. E a te sta bene? Non posso battere la Roxxon da sola. Vieni. Ora quando la mosse sta a fare le hao. Devi saltare dalla gru alla balconata per dimostrare il tuo coraggio. Mi guardano? Dalle finestre. Non puoi tirarti indietro. Tranquillo, è tutto a posto. Eh. Sarà mai. Meglio farlo senza rivelare i miei poteri. Forza Miles, fatti valere. Oh cazzo. Ma fa qualche danno questo. Già l'ho capito io. Si fa becca. Preso. Quindi sono ufficialmente nel club? Certo. Ma fa attenzione. I ragazzi sono un po' diffidenti all'inizio. Ecco qui dove il piano prende forma. Il vostro piano... Cosa c'entra il new form? Krieger dice che hai rubato un carico. Ragazzi qua è spettacolare la... La grafica. E poi mi dicono che... Questa non è già una grafica next gen. Guarda qua. E che non si può fare a 60 fps. Guardate che roba ragazzi. Cioè guardate i riflessi. Ragazzi è uno spettacolo. Mai visto una grafica così bella in vita mia. Guardate che roba. A 60 fps. Nuovi nemici, nuove soluzioni. Ti riferisci a Spider-Man? La sorpresa peggiore della settimana. Provo parlando anche di su. Sì. Vi avvi in la foto di mazzo di mia testa. No. No. Quante volte glielo devo ripetere. Miles ho bisogno di un minuto. Te la travi da solo, vero? Oh certo. C'è una volta dedicato la brazza. Devo scoprire dove tiene il nufo. Forse qui potrei trovare qualche indizio. Che bella rà. Ciao a zi. Tutto questo era... Di Martin Lee? Sì. Sono trofei. Dobbiamo intuorci se vogliamo dominare New York al posto di Cristobal. Se hanno sconfitto i demoni, questi sanno il fatto loro. Ma dove si sono addestrati? Siamo in Portia. Sto pang, tra la sto pang. Sto pang, tra i nostri nomi è ovunque. Ne avete di soldi? E non hai visto di sotto? Il vecchio ci sta finanziando. Ti vi piaccia oppure? Di sotto? Potrebbe essere una pista. Ok, dobbiamo fare in modo di aumentare. È troppo quanto ti è chiesto. È una cassa di ripornimento? Sì, ma non bastato le apprese di mia. Io userei trappole vestiti. Beh, amo le sfide. Bello, grazie. Ho firmato. Può stare con le mani in mano. Bello, ragazze. Spettacolo. Sì, sono i giorni del respiro del diavolo. Lavoravo per tutto. Ma per quello è il posto. Cazzo, devo andare. Laggio, laggio, laggio. Vedo che illumina qualcosa. Dopo il ponte l'Underground è su tutti i DG. La reputazione è qui. Io preferirei assumere il piede invece di pensare a quello schifo di lui. Pensare a quello schifo? Forse l'hanno portato qui. Dopo di vandare. Allora, sembra di vedere un film. C'è una grafica che, ripeto, e gira pure su PS4 sta roba qua. Non voglio capire come se fai da qua. Ah, corre pure, Miles. E' strano, prendere ordine da proprio la pista. Uff, Fisk non apprezzerebbe. Stare di guardia è uno stress. Uff, Fisk non apprezzerebbe. Bebozzorna, genki A chi scrive? Mia madre. Vuole che rientri. Sul serio? Ora? Sai, hai il polso ingiassato. Ha bisogno di aiuto. L'hai detto che io... Grazie. Puoi uscire da là. Tornerai presto? Contaci. Dalla porta di servizio esce Raffaellino Leao. Oh, ma ci attacco pure a invadere. Genki, sono nei condotti. Bene! Hai scoperto dove nascondono il Nufor? Non ancora, ma ho visto Finn dirigersi verso il seminterrato. Proverò a seguirla. Ehi, quando strisci nei condotti, ti senti mai in un film e inizi a canticchiare musiche di tensione a mezza voce? E immagini di essere chiuso in una gabbia sopra una fossa con gli alligatori e poi crei una bomba con le carte dei chewing gum per scappare? Ma che... Certo che no! Va bene, ero curioso. Ok, sono nell'atrio. Devo mandare a monte gli addestramenti dell'underground. Abbiamo di cercare le stanze segrete. Non trattenetevi! No! Ci abbiamo lavorato! Oggi, la serie a tre. Cazzo... Oh, merda! Bene così, alle balle, coraggio! Bene così, alle balle, coraggio! E così vi voglio! Così, a tre anni, la polizia non è trovata. Sì, sì! Ci abbiamo lavorato! No, ma puoi fare meglio di così! Non so che andiamo verso l'altra. Ganza a sinistra! No, ma puoi fare meglio di così! No, ma puoi... No, ma puoi! È stato fatto! Siamo salati! Siamo salati! … ma che fuori? Grazie a tutti 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 Bellissima la grafica A rompere i coglioni E ora sto gioco perché non mette una... Aspetta, vedi qualche grossa statua all'ingiro? Sì, mi pare di sì Oh, sì... E' profondo Ho spostato il microfono, scusate il microfono, scusate la grafica... Ho sentito bene l'audio, mi sono reso conto, intanto lo faccio... Spostato il microfono, scusate la grafica... Mmh... Mmh... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Vuoi contarci... Vuoi contarci... Wow, domani la grafica... Oh, cazzo... Combattere in un cavo di criminali è sempre stato il mio sogno... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Questa è impossibile... Ho analizzato la foto scattata alla mappa... A quanto pare l'Underground sta occupando i vecchi cantieri di Fisk... Mmh... Finn parlava di un teatro... Visto niente... Un teatro, eh? Oh, cazzo... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Oh, cazzo... Non dirlo... Un dramma... L'hai detto... Dovrebbe essere il Gem Theater... Forse è lì... Non mi resta che indagare... Se vuoi andare al teatro, conta su di me... Ma, ragà, io rimango scioccato dalla grafica di questo gioco... Cioè, è troppo perfetta... Aggiungo i cubi alla lista delle cose da fare e ti chiamo appena arrivo al teatro... Nel frattempo, io cerco di capire perché Speed Nonagon crasha di continuo... Finn e l'Underground si incontreranno al Gem Theater a sera inoltrata... Ho tutto il tempo per controllare l'app o dedicarmi ad altri impegni... Mmh... Ragazzi, vediamo al prossimo video... Ciao!